Buongiorno e benvenuti in questo mio nuovo video Per chi non mi conoscesse, io sono Gaia, questo è il mio nuovo canale YouTube aperto da poco e appunto questo sarà un video un po' diverso dagli altri che ho già fatto che se non avete visto vi lascio qui sopra nelle info box e qui sotto in descrizione e niente, appunto, questo sarà un video di Roblox dove proverò un Tycoon che si chiama YouTuber Tycoon e inoltre vi volevo anche dire che mi scuso per la qualità della registrazione, non della webcam ma proprio del gioco perché appunto BSS Studio mi fa andare il gioco a scala e non ho ancora capito il motivo però dato che appunto devo portare un video domani porterò questo e niente, spero che il video vi piace e vi lascio il video, ciao ciao! Eccomi qui all'interno del gioco, allora, chiudiamo un po' questa roba ok, allora vediamo un po' cos'è Sketch non l'ho mai provata questa mappa quindi la sto provando prima con voi Dennis Day di Denton Sketch, ma tipo sono i nomi delle mappe oppure noi scegliamo dove andare penso che noi scegliamo dove andiamo andiamo allora, comprate il Tycoon per una sorpresa più, ok più allora toccare per prenderlo, quindi, ok, questo adesso è mio allora, come cominciamo a fare i soldi penso che devo fare? allora la porta costa 1.5 ah, una spada forse per fare i soldi bisogna uccidere ah, start 0 ok, ecco qui non l'avevo visto allora spero devo cercare di saltare il più possibile perché quando salto il gioco va a scatti e quindi cerchete appunto cercare di saltare il meno possibile allora i soldi che ho dove si vedono? mmmm non lo so guardate, quando devo schiacciare? vediamo allora che significa reloading? non lo so allora però da quel che vedo appunto io non sto facendo soldi però non capisco come si facciano cerco al tempo di capire come funziona e poi prendo la registrazione ok, ho capito in pratica l'unica cosa che sbagliavo è che tengo l'arma in mano invece non bisogna tenerla e bisogna devo schiacciare io a quanto pare allora penso soltanto per i primi dropper in realtà perchè c'è questa luce? vabbè ok vediamo un po' quanti soldi ho fatto 90 100 dove li vedo i soldi? forse devo tenere aperta la classifica si ecco infatti ok ah ok qui non ci sono i soldi ma ci sono le visualizzazioni ok ok allora lasciamo aperta la classifica e vediamo se possiamo comprare qualche altra cosa ok compriamo questo questo è automatico? si però io continuo a schiacciare qui perchè così ma ci va di più semplicemente ok ho avuto abbastanza soldi prendiamoli ok prendiamo questo poi questo questo è qualcosa per 45 mesi già vuole allora vado li rompi a premere ora probabilmente il take one non lo finirò tutto oggi perchè appunto da quel corretto è molto grande quindi se vi piace e e se mi va porterò anche un altro episodio ok questo è questa 300 lo posso ancora prendere così eccolo 350 ok cioè perchè quelli lì sarebbero le visualizzazioni penso queste che vengono prodotte ok andiamo a prendere sono a 107 le progette 350 che ci sono voglia qui 500 mi piace in 30 secondi mi sembra molto carino come ho fatto ditemi anche altre mappe di roblox che dovevi provare perchè appunto l'ho scaricato tipo altro ieri e quindi se volete qualche altra mappa non adoptami perchè non capisco come si gioca ok anche qualche video di minecraft o di qualche altro gioco dite me lo provate ok comprare comprare l'upgrade per 500 adesso ce li ho devo sentare il meno possibile quindi la video ah qui ci sono le armi e quanto costano c'è amore le mura quanto costano 500 ah non so amore che so ah perchè possiamo scegliere il quadratino ok io tipo adesso ce lo metto io oh che carini ok io molto l'altra perchè ci si possono mettere i quadratini viola ok normale vediamo un po' con i soldi che voglia allora prendiamo questo questo cos'è? che sarebbe? non capisco perchè ci sono i quadratini? scuri i quadratini? vabbè non scoprirò mai a cosa serve ok questo lo posso prenderlo questo no ma ora si questo prima non sapevo che era il punto di spawn non lo scoprirò ok questa è la è la è la parte di sicurezza ok servono perchè divento più o meno scura la luce ok ehm 753 quanti soldi ho? che è un mille posso vedere qualcosa? sì posso comprare i muri 4.000 esu 800 questo posso 2.400 questo costa 2.400 ok 2.400 di tutto lì cos'è? bui stairs ah le scale sarebbero e comprare il muro ok comprare il muro e le scale penso perchè ci siamo più all'interno superiore ok allora 571 adesso compro un attimo queste cose poi appena riesco appunto a fare un po' di soldi vado anche a vedere il pieno di sopra cioè vado anche a picchiare la gente non il pieno di sopra ok allora questo costa tutto un po' queste cose non le comprerò mai non ci arriverò mai a comprarle ok mi metto a scherciare anche un po' io così faccio un po' di soldi e poi appunto ci rivediamo quando devo quando quella perchè io mi scordo come potete dire cioè non è difficile ok perchè appunto cioè ricomincio dopo la registrazione perchè devo andare perchè appunto andrò a picchiare un po' di tizi in giro perchè penso che che ci vengano tizi si facciano anche soldi quindi niente sto apportando la registrazione e noi ci rivediamo dopo ciao ok eccomi qui allora ehm ho fatto un bel po' di soldi adesso li vado a prenderli insieme ehm comunque volevo dire anche dirvi che mi scuso per la skin ma non vado appunto a prendere l'obux soltanto per farmi la skin quindi sarà una basic ok ho preso un po' vabbè con i soldi ho ok vado a comprare qualcosa vorrei prima finire di comprare muri e tutto e poi e poi dedicarmi alle armi però non ho abbastanza soldi quindi andrò a provarle a picchiare con una spada perchè finalmente è giunto il momento allora andiamo nelle basiglie ecco vedi tipo lì penso che quello sia il pieno di sopra no non voglio acquistare niente perchè Roblox ogni 30 secondi ti chiede se vuoi acquistare quello no non voglio acquistarlo no ok no Roblox no ok allora ah quindi con queste cose non puoi entrare hm pensavo di facesse soltanto danno e allora niente devo aspettare di prendere qualcos'altro per adesso dobbiamo prendere la eh by blue block sword red block sword by dropper eh by dropper così cominciò a guadagnare cioè non è che cominciò a guadagno di più ok ok sono liberata di nuovo buia questi temi di luce improvvisi no ecco grazie allora sono il 2004 e posso prendere niente ma quindi una volta che tipo acquisto le cose di no ok pensavo che ogni volta tipo che acquistavo le spade poi aumentava il prezzo però mi sono sbagliata io ho fatto tutto tantissimo e le scale mi sa quanto costavano non lo ricordo più questo è tutto questo è tutto questo è tutto posso prenderlo ah ecco ok ok bene bene ci sono i condopi ediz ok acqua bevuta le scale quanto costano? 5000 ok mi conviene da tenermi i soldi per prendere le scale mi ricordavo costassero molto di più altrimenti li avrei presi anche prima ok vado a schicciare un po' io così faccio più veloce ok abbiamo schicciato un po' adesso vediamo un po' quanti soldi ci siamo 2000 posso andare a comprare le scale per il piano di sopra quindi ok carine ah cioè senza manco il pavimento ok quindi perchè? allora facciamo altri 4000 molto veloce dando ok ok prendiamo anche questo e vado a compro questo con l'untosia ah ok ecco questo è il pavimento poi cosa ho già da comprare a parte le armi che vabbè Gers cos'è Gers? costa 10.000 quindi non c'è c'è c'erriverò tra tipo 10 anni ma vabbè ok ok c'è l'assunto di questo video ok ehm vabbè allora prendiamo questi soldi sono a 5000 devo arrivare ah vediamo qua un dropper a 5000 ok così ve ne faccio più soldi questo sarebbe 3500 e questo 5000 di nuovo allora il resto spade anche questa qui posso prendere costa 5000 ok allora ah ritentiamo a dare a uscire la gente ok aspetta intanto lascio fare anche un po' i fatti così almeno quanto non ci sono tanti ok 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 questo è il libro sono tutti vuoti mi sa a parte corlo quello lì no corlo è il minimo sono stupida da day is day quello mi sa che occupa da qualcuno si infatti allora posso entrare da qui perchè ancora non ha messo i muri qua si spicchia oh oddio faccio soldi no allora che mi serve ho fatto il tempo l'ho ucciso bello troppo forte ok risalgo qui vediamo qua quanti soldi ho 3 mila ci sta quasi 4 mila però vabbè vado a comprare un altro po' di cose con 5 mila e prenderei che cosa sono 5 mila no non lo devo prendere poi adesso vabbè ok comincia giusto un po' a fare il tiro di sopra e poi interrompe il video vediamo un po' cosa c'è al pieno di sopra allora qui lasciamo un po' perdere intanto spero che le cose al pieno di sopra costino di meno perchè ecco qua infatti costano di meno questo costo 3 mila questo 5 mila adesso lo può cos'è questo? vedete le cose che ho appena comprato ma tipo perchè mi uccide? vabbè vediamo un po' che costo di 5 mila quindi adesso vi faccio così comincio anche un po' a fare il tiro di sopra e poi interrompo la registrazione allora mille vedete manca poco manca 200 ecco qua c'è un po' tralasciando il fatto che io avevo la memoria piena e quindi mi si è stoppata la registrazione vi volevo dire che ho appunto comprato quello al pieno di sopra e ho comprato anche una spalla che non so perchè a forma di mattoncino dovremmo ancora scoprirlo e appunto adesso lo stavo andando a provare non so perchè penso che per la memoria piena mi si sia fermata la registrazione poi ci sono questi cambi di luce sempre molto fantastici allora vediamo un po' ma faceva più d'ora la spalla vabbè l'ho deciso non penso che stai giocando sì vabbè allora faccio vedere un attimo il pieno di sopra dopo appunto grazie alla mia fotocamera grazie al mio telefono cioè grazie al mio telefono grazie al mio telefono che la memoria piena si è interrotta la registrazione ok basta roblox non voglio comprare niente allora appunto vi faccio un attimo un tour è molto carina questa mappa il nome se vi interessa ve lo lascio qui sotto in descrizione ok no è tutto qui ho fatto qui appunto che sarebbe un altro un altro distributore ma costa 10.000 quindi sì ciao a rivoluzione arriverò e niente appunto detto ciò il video termina qui noi ci vediamo ad un prossimo video e niente vi consiglio di iscrivervi e di attivare la campanella per non perdere i prossimi video se vi piace il video lasciate un like detto ciò ciao ciao